Le Gambienti approda il porto turistico e conferisce tre vele blu alla città di Pescara, un in più rispetto allo scorso anno per la sostenibilità delle spiagge, del mare e dei servizi. In un incontro con i vari protagonisti di diversi settori si è discusso di infrastrutture green per una mobilità intelligente e sostenibile in Abruzzo, ma bocche ancora cucite sui dati del nostro mare in base ai prelievi di Goletta Verde effettuati. Domani a Giulianova sarà ufficializzato lo stato di salute del nostro tratto di Adriatico. Stefano Reimondi, portavoce di Le Gambiette. Goletta Verde fa tappa anche a Pescara in questi quattro giorni abruzzese, dopo aver frequentato Vasto con ben due iniziative. Oggi qui a Pescara parliamo soprattutto di trasporti, dell'importanza del collegamento e dell'integrazione tra trasporti marittimi, trasporti su gomma e efficientamento del trasporto ferroviario. Questo fa parte di un quadro generale che abbiamo cercato di trattare in questi tre incontri. Il primo relativo al turismo green, il secondo relativo alle fonti di energie rinnovabili di cui la regione ha ancora molto da poter esprimere. Oggi lo facciamo completando il quadro con il tema dei trasporti che è molto importante per completare il quadro di una regione sempre più green e che deve essere sempre più attenta anche agli aspetti ambientali. Come detto, per avere una panoramica completa sulla salute del mare abruzzese bisognerà attendere domani lo scalo di Giulia Nova. Silvia Tauro, presidente Legambiente Abruzzo. Domani daremo a Giulia Nova i dati quindi sulle condizioni di salute del nostro mare. Quello che possiamo dire è che in questo momento tutto quello che si sta mettendo in campo come regione Abruzzo è finalizzato a mantenere la qualità delle nostre acque e delle nostre coste. Anche un tema come quello quindi dei servizi portuali e del trasporto marittimo è fondamentale per raggiungere questo scopo. Ecco, oggi la parola d'ordine è trasporto. Oggi la parola d'ordine è trasporto, sia mettere in connessione soprattutto quelle che sono le infrastrutture portuali e ferroviarie della nostra regione in maniera tale da offrire un'offerta competitiva che porti i cittadini finalmente a superare l'uso dell'auto privata ma soprattutto possa anche rafforzare la logistica della nostra regione e quindi la competitività dell'Abruzzo come sito produttivo che possa proiettarsi quindi verso il futuro con più credibilità e più forza.